Stiamo vivendo oggi un contesto già difficile per tutta la problematica di rifornimento del costo dell'energia nel nostro paese. E vorrei ricordare che quello che ci troviamo a gestire oggi, a soffrire oggi, sia come collettività singola e dei singoli, e soprattutto le imprese, con dei costi enormi, è il risultato, è il frutto delle nostre decisioni di oltre 30 anni. E le conseguenze le stiamo pagando e credo che le pagheremo molto pesantemente anche dal punto di vista socio-economico dei prossimi mesi, perché le imprese non reggeranno questi costi, quindi chiuderanno, ci saranno anche dei problemi dal punto di vista sociale. Venendo l'acqua è ancora peggio, perché al limite l'energia, se non si ha, si può comprare, magari si paga tre volte tanto, come stiamo facendo oggi, però puoi comprarla. L'acqua, il giorno che ci mancherà, non si compra, nemmeno pagandola cento volte tanto, perché nessuno te la può vendere. Noi viviamo in una provincia in cui l'approvigionamento idrico, io sono qui da vent'anni, quest'anno è il ventesimo anno, una delle prime cose che mi disse l'allora sindaco di Pesaro, disse, una criticità che abbiamo è l'approvigionamento idrico. Tale era e tale purtroppo è rimasto. Noi soffriamo moltissimo perché abbiamo l'84% malcontato di acqua di superficie, quindi fiumi che non sono fiumi sono a carattere torrentissimo, sorgenti che sono estremamente, e posti che sono superficiali, e quindi risentono immediatamente e troppo velocemente di quello che è l'andamento climatico e della siccità. Proprio per questo abbiamo lanciato l'anno scorso e oggi si sta riprendendo il ragionamento di realizzare un invaso. Qualcuno dice che ne servirebbero due, forse ha anche ragione, perché sarà l'unico modo per affrontare in futuro l'approvigionamento idrico. Tanto il cambiamento climatico che si sta già da anni manifestando avrà sempre il solito percorso. Il nostro è un territorio particolarmente bello, ma anche a carattere collinare, e quindi in assenza di nevicate le falde non si possono rimpinguare, perché quando piove l'acqua velocemente arriva al mare. Quindi l'unico modo intelligente che l'uomo possa affrontare questa tematica è quella di realizzare un invaso per captare le piogge, trattenerle e avere un uso importante. Vorrei ricordare che tutta la Romagna ha risolto la criticità dell'approvigionamento idrico per tutta la costa nei periodi estivi, realizzando ridracoli. L'elemento invece che ci fa veramente preoccupare, che ripeto, la gente deve essere consapevole e a conoscenza, è che tutte le sorgenti delle aree interne in questi otto anni hanno avuto delle regressioni estremamente significative. Le principali hanno avuto una regressione di oltre il 40%, il che significa che in altri 10-12 anni quelle sorgenti tenderanno a sparire. Quindi bisogna, ripeto, abbandonare il populismo della strada o dei social e cominciare ad assumere delle celte che devono essere responsabili e guardare quello che è lo sviluppo delle nuove generazioni perché altrimenti, io lo dico in modo molto chiaro, i nostri figli avranno tutto il dovere, non il diritto, di maledirci per quello che non abbiamo avuto il coraggio di fare.